Eh, voglio accenderti da coppia Eh, cosa? Maccio! Cosa hai detto che ti è pronto? Ciao, sono rabbioso Ho mai detto un buono e poi devo ancora venire prete a benedirmi le vacche Dimmi a te, sei del mestiere qua Non so, dimmi a te Eh, probabilmente perché adesso il sac hai tanti uvi da larghe Molto sì, no, no, devo stare sento perché sei di qua se per caso mi butta l'occhio sul coatto qua e mi catta gli uvi di acciocca e mi spacca il coatto e l'ho portato più uvi Eh, maccio scotton dei recchi ha anche ragione di arrabbiarsi perché se non arriva il prete a benedir le stalle entro il giorno di Sant'Antonio Abate cioè il 17 di gennaio eh, magari mi si ammalano le vacche, le capre, le galline perché è importante pensate, avveniva così un tempo si andava al mattino presto alla prima messa portandosi del pane, del sale e chi non poteva almeno un po' di fieno e lo si faceva benedire e poi alle due del pomeriggio lo si dava da mangiare alle bestie a Sant'Antonio Abate che tutti conosciamo come il Santo del Porcell quello che ha il maialino maialino che nella simbologia rappresenterebbe la concupiscenza vinta spesse volte da Sant'Antonio Abate ma... ma che nella tradizione popolare diventa un po' il simbolo della fattoria diventa il simbolo delle bestie pertanto, oltre ad essere il fondatore del monachesimo cristiano è anche il protettore degli animali da cortile quelli da stalle invece sarebbero sotto la protezione di San Bovo quello del 2 di gennaio ma non si estende in tutto il Veneto questa abitudine e allora col tempo visto che si iniziano a benedire le stalle dal 2 di gennaio fino al 17 San Bovo diventa suo malgrado anche Sant'Antonio Abate non a caso vediamo spesso nelle stalle appesa l'effigie di Sant'Antonio Abate che è quello con il bastone la campanella il maialino e il fuoco scusa popi ti che sei ma come mai usciamo a sfugare Sant'Antonio? bella domanda macio si racconta che c'era un maialino particolarmente legato a Sant'Antonio e non lo lasciava mai e questa bestia aveva freddo così Sant'Antonio scese negli inferi combatté contro i demoni e il demonio stesso per rubare il fuoco e poter così scaldare la sua bestiola e con essa anche i contadini gli uomini poi si racconta anche che l'avesse chiesto che Sant'Antonio avesse chiesto a Dio di poter avere un elemento con cui riscaldare i contadini che gli faceva tanto peccato ma la spiegazione più attendibile dovrebbe essere questa nell'undicesimo secolo un crociato portò le reliquie del santo in Francia avvenne che i popolani di quelle terre si ammalarono di un'affezione dolorosa detta fuoco sacro non ci crederai macio ma tutti affidarono le loro preghiere al santo in questione vista la novità anche beh miracolosamente guarirono tutti quanti e anche protettore dei femmine fiabe le donne che non un po' svogliate le donne che non hanno insomma non hanno un gran vigore fisicamente e anche sessualmente donne che inevitabilmente poi rimangono zitelle e chi non riesce a trovare moglie o un marito infatti si affida con delle preghiere al santo pronunciando il tradizionale proverbio a Sant'Antoni da barba bianca fammi catarqueo che me manca da non confondere con l'altro Sant'Antonio quello del 13 di giugno ma oltre a queste ci sono altre curiosità legate al santo nella notte di San Bovo gli animali hanno la proprietà della parola è stata una concessione dovuta dal concilio di Trento infatti secondo tradizione orale una volta gli animali parlavano sempre poi quel concilio la cosa venne ridotta alla notte di San Bovo se però accade che un uomo per curiosità personale sfida le leggi della tradizione orale e si reca nella stalla per ascoltare gli animali può accadere che egli non abbia più un domani Sant'Antonio è anche un po' uno spartiacque tra le festività natalizie e il carnevale che è ormai imminente oltretutto forti del fatto che da Sant'Antonio si allungano le giornate da Sant'Antonio e il dì va al passo del demonio ma ci ho visto che il prete non segna ancora arrivà una fettina è puenta e una di San Ado cosa dici? e anche con un'ombra è crito demo e ora demo lei, demo quando arriva il 17 di gennaio generalmente il santo porta con sé copiose nevicate ahhh 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 ahhh